Molto contento, molto felice. Era per noi una partita dura, una partita difficile. Abbiamo fatto bene. Adesso tre punti molto importanti. Anze, era una partita difficile questa perché si arrivava dopo due grandi prestazioni. La tensione non è calata. No, sapevamo che loro sono molto chiusi. Questo è un campo molto duro, molto difficile. Questo sapevamo anche per l'anno scorso e questa prima partita che abbiamo giocato contro loro. Abbiamo fatto molto bene, sicuro dopo queste due partite contro Juve e Roma. Abbiamo fatto molto bene. Contento per il tuo gol? Sì, molto contento. Sì, molto felice. Quattro gol nel campionato adesso. Soprattutto molto contento per il vettore.